Il prossimo brano si chiama Spookyville, penso che sia la casa non rispondita, un po' come quella che c'è per andare senza perdita. Quindi immaginiamo di essere in una vecchia soffitta di questa casa, tra vecchi uomini, ragnappiere, sorprendenti, polveri, eccetera, eccetera. Ci troveremo di fronte a mostre e stile. Stiamo poi, dirige Marco Rononi. Stiamo poi. 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 Buonissima carriera musicale. Grazie.